Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio a Viareggio. Sono appena tornato dalla mia bella crociera e la prima cosa che ho deciso di fare è venire qua a Viareggio dall'amico Giacomo, dalla gioielleria Pasquali Domenici, per andare a vedere le novità. Poi se ci sono le novità o non ci sono, l'importante è vedere gli orologi. qualche orologio nuovo. Siamo anche oggi in compagnia, purtroppo devo dire, dell'amico Piero, che a proposito di crociere sembra vestito come un tedesco che va in gita a Firenze. Non mi hai portato con te in crociera. Non ti ho portato perché sei povero. Molto povero. Facci vedere l'orologio del giorno. Ultimo acchiappo Tagoyer 2000 del 1985 al Quarzo. Sto qua l'ho mai visto io. L'ho preso mentre ero in crociera. Ma sei un infingardo. Sì. Ma è un Quarzo. Sì. Bello. Voi com'è bello? Sì. E invece io sto indossando il mio bellissimo Brightling Cronomat GMT. Eccolo qua, con il suo bracciale... Jubilee. No. Com'è? Jubilee. Bracciale a... Perché non sei normale. Andiamo, andiamo. Andiamo. Poi chiaramente... Anzi, ho visto che il buon Giacomo ultimamente ha fatto una live su Instagram con un sacco di orologi usati. Capace che ce li ha ancora. Perché io a un certo punto mi sono addormentato e non l'ho vista tutto. Bravo. Ti giuro. L'ho anche scritto. Uno mi ha chiesto, l'ho scritto Davide dorme. È durata tanto. È un'ora e mezzo quasi. Me li faccio vedere io dal vivo e così. Senti un po', ma la tua camicia invernale la fanno anche da uomo? No, la fanno solo da boscaiolo macio. Ah, ecco. Quella da uomo è il livello inferiore. Hai capito? Sì, ho visto che criticavi il mio modo di vestire. Sempre un turista tutto color cachi. Ma no tedesco. Potevi dire californiano. No. Questa giacca nocciola. No. Mio padre. Bellissima. Bellissima. Bravo. Però c'è un bar qua. Ah dai, non sapevo. Prendiamo un caffè? Sì. Paghi te. Sì. Volentieri. Non ti offro il caffè da una settimana. Sei stato io. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Dai che faccio figurette. Comunque ci avete finito a far farsi da quello lì che sappiamo come si è. Ah bene. Un'altra volta. Grazie. Ma certo. Quindi sono... Grazie. Che cosa? Ringrazio chi ci ha offerto il caffè. Ringrazio chi ci ha offerto il caffè che non sa il nome. Io non so il nome. Comunque ogni volta che passate da questo bar qua un caffè pagato. Sempre. Questo non pago io. Vedete cosa? Devo sempre pagare mai. Un caffè. Un goccino d'acqua. E' quella non è pagata però. Quella non l'ha pagata. Lassata naturale. Quella che non si paga. Questa è... Quella del sindaco. Quella del sindaco. Grazie. Sono povero. E' vestito come un turista tedesco a Firenze. Californiano. Poi va. Ti mancava il caffè di Via Reggio eh. A UFO. Non mi stufo. E' più buono gratis eh. Grazie al tuo follower che ci ha offerto due caffè. Però vedi... Ha pensato anche a me. Visto? La palla al piede ce l'ho. Vabbè quindi non facciamo nemmeno una finta. Ciao eh. Ci vediamo dopo. Ciao. Cosa è sto casino qua? Sempre lavori qua eh. E' Giacomo che vuole abbellire la via. Sai che lui è amico del sindaco. Ehm eh. Ecco fatto. Suonato? Buongiorno. Eccoci qua finalmente seduti al tavolo di comando con il timone in mano come diceva il buon nostro uomo. E qua abbiamo il figlio di Giacomo praticamente perché non lo riconosco più. Chi sei? Al Kogan. Al Kogan. Abbiamo tutta una smandrappata di simpatici orologi che adesso andremo a visionare assieme per vedere cosa ci presenta questa giornata dedicata ai pezzi di ferro per le scimmiette. Eh? Come possiamo dire. Io partirei da far vedere che ovviamente il nostro enterprise eh dei Casio. Mamma mia. C'è stata tutta una mandata di novità Casio eh aggiunte ovviamente di colorazioni su prodotti eh già molto conosciuti tipo i G-Shock. Ehi. 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 Ehi sfumatura di colore che varia dal blu al viola sembra che il quadrante sia anche un po diviso trasversale in due colorazioni però molto metallizzate molto cangianti un po particolari poi non so se dalla camera si riuscirà a vedere se vi piacciono le sfumature questo qua è l'orologio che fa per voi allora questo qui è una cosa molto particolare perché l'orologio ovviamente con un sacco e funzioni aggiuntive ma la particolarità che è una collaborazione che Casio ha fatto con Toyota per il team della Land Cruiser possiamo far vedere anche la scatola laggiù così magari da casa si rendono ben conto sì sì eccola lì vedico con Land Cruiser la scatola del G-Shock simpatico e poi questo è carinissimo perché è diciamo un G-Shock di quelli non proprio base però le forme sono quelli che ricordano i vecchi Casio io amo il colore di quello lì è una colorazione nuova questo neanche celestino è una presa d'aria sì quella è la presa d'aria no non è una presa d'aria è un sensore che non so che micchia serva vabbè è un orologio pieno di sensori simpatici ma scusate gli G-Shock quanto costano no allora qui c'hai 159 sì hai orologi di vario prezzo è perché per esempio è quello lì con il il quadrante multicolor alla cassa in acciaio sicché ovviamente è un prezzo leggermente più alto è un 219 poi hai Land Cruiser le funzioni aggiuntive il bluetooth sicché fai un altro scalino di prezzo un po di abbiamo fatto vedere anche gli G-Shock per gli amanti degli orologi al quarto più che degli orologi al quarto proprio dei G-Shock perché c'è tutta una branca di persone di appassionati che sono fissati con questi orologi non è il mio caso ragazzi però per voi che amate questi orologi simpatici poi ci passiamo un po' a quelli di ferro poi tanto per restare in Giappone io passerei Citizen e partirei con delle novità interessanti per arrivare poi a quelle che piacciono a casa lo so già queste sono tutte tirature limitate che materiale titanio super no 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 questo è un acciaio brunito sì sì sono tutti acciaio brunito nello specifico questo qui è un modello air si chiama è un anadigi che non è una parola pornografica ma è l'abbreviazione di analogico digitale perché vedete sia la parte con le lancette sia la parte con i cristalli liquidi ovviamente ogni parte riporta delle funzioni nello specifico questo qui è un cronografo e nelle finestrine digitali oltre che varie funzioni tipo l'indicazione della sveglia si possono inserire anche le ore del mondo addirittura inserendo la città di appartenenza o dove si vuole andare così possiamo tenere sott'occhio due fusi orari contemporaneamente uno nella parte digitale e uno nella parte analogica oltre che radiocontrollato quindi imbroglione perché piglia segnale sì anche ecodrive quindi a carica solare a carica di luce diciamo così ora io questi qua sono quegli orologi nei quali il libretto di istruzioni è indispensabile perché qua per studiare tutte queste funzioni come si insettano però ti dà un sacco di informazioni quello è poco ma sicuro eccolo qui un altro un altro limited come vedete sempre un acciaio con questa finitura molto brunita e ovviamente tutti tutti gli orologi limited di citizen hanno una confezione speciale dedicata questo qui che ha in mano radabile arriva anche con un doppio cinturino intercambiabile sì che può essere configurato in due versioni diverse è un anadigi anche questo cioè sia le lancette che la parte digitale su cui si possono poi impostare diverse funzioni dell'orologio simpatico e poi poi dopo abbiamo una t8 della famiglia super titanio o anche questo è un ecodrive però ecco la particolarità è che a questo quadrante nuova colorazione questo celestino con contatore nero a contrasto molto interessante un po tutte le aziende in questo momento stanno inserendo dei colori molto chiari dei celesti tra l'altro le vedo anche molto estivi come colore però purtroppo stanno uscendo tutti in fine stagione magari fine stagione per noi dall'altra parte del mondo magari la stagione sta iniziando sicché possiamo capire quali lancetti girano come se non ci fossero domani cosa ho fatto è perché praticamente radio controllato anche questo e sta andando si sta resettando nell'orario sta prendendo segnale sì se non lo prende se non lo prende peggio per lui si fermerà un giorno no o forse devo fermare io ha fermato secondo lui sono le otto perché mi sta dando l'orario va bene si chi non lo prende gode solo a metà quella era chi non si leccava le dita va bene super titanio almeno qua siamo sicuramente sul materiale principe per citizen che è famosa per il super titanio per la leggerezza dei suoi comunque via anche se qua un radio controllato ecco drive ci stiamo facendo una scorpacciata di orologi di quarsun piero i quarsun poi arriviamo ovviamente all'orologio che interessa a casa lo sappiamo già eccolo qui novità assoluta si chiama fugu sai cos'è il fugu a no il fugu è il pesce palla in giapponese e questo qui è un orologio ovviamente soprannominato così anche perché nella parte sottostante porta l'incisione del pesce palla è un orologio che già conosciamo perché è il classico pro master automatico che abbiamo già visto in tante colorazioni in tante varianti questa tiratura limitata con quadranti inediti sono nello specifico sono due colorazioni la blu con questo piccolo reo interno bianco e il tutto nero con le grafiche con le rifiniture dorate quindi questi qua sono edizioni limitate edizioni limitate e arrivano tutte e due le colorazioni corredati dal suo cinturino in gomma sicché anche qui avete in un colpo solo un doppio allestimento e poi facciamo vedere perché come abbiamo detto prima tutti i citizen hanno una scatolina dedicata nello specifico essendo un pro master ha sempre la fantastica bomboletta invece di essere gialla è nera è nera bravo hanno fatto una variante di colore anche nelle preleviazioni precedenti in tiratura limitata avevamo già visto questa confezione però molto carina si può e può avere un doppio uso eccolo qui fantastico bello il classico pro master mi sembra anche fatto meglio di quelli vecchi sai mi sembra leggerissimamente fatto meglio il calibre sempre il solito miota della serie 8000 yes qua con giorno e data 200 metri di impermeabilità e quello blu mi piace di più parafonsi ponzi pu perché fa il contrasto del rio col quadrante mi piace di più belli romasterino sempre ora verranno caricati a breve sul nostro sito sì che potrete anche ad acquistarli direttamente stiamo aspettando la nostra operatrice che rientri alle ferie giustamente ha diritto anche bracciale mi sembra un fatto perché vedo i finali in acciaio pieno belli addesi alla cassa eccoli lì finali pieni bello costa di più del resto degli orologi dei pro master 359 di listino poi il 9 gli togli no le 9 euro si è detto bravo bravo giacomo che viene sempre incontro agli 9 euro poi li mettiamo 20 euro di spesa iscrizione insomma io direi di finire la carrellata restare sempre in giappone quello verde la cosa si restare sempre in giappone sì che passerei diciamo a seiko e così abbiamo fatto anche la scalatura di prezzo all'interno del mondo giapponese e seiko allora partirei con una aggiunta di colorazione seiko 5 sport gmt già lo conosciamo esistono già tre colorazioni ne sono arrivate altre due eccole qua allora quello verde e nero è particolarmente allora mi piace più quello bianco per assurdo io mai mai preferisco gli orologi bianchi ma in questo caso la bordatura che c'è sulle sfere e sugli indici tondi lo rende perfettamente leggibile bello mi piace quattro r54 che è praticamente la variante del calibro base è stato solo aggiunto il gmt questa qui è la qual è la configurazione dei seco 5 che amo immagini per la maggiore proprio per il bracciale giubilè mi sembrano anche quelli un pochino più rifiniti che diciamo danno più valore ai soldi spesi diciamola in questo modo per non dire miglior rapporto qualità prezzo bravo bravo sempre fa sempre fa sempre chic ottime ottime colorazioni e ottimi orologi conosciamo già riconosciamo memoria sì è solo un solamente per far vedere i nuovi colori poi nuovi king seco leviamo qualche plastichina perché non vogliamo mandarveli graffiati allora le plastifichiamo eccolo qui ho scelto delle colorazioni molto vivaci ci sono anche colorazioni più sobrie ma perché far vedere quelli sobri quando si possono far vedere quelli particolari questa volta sono d'accordo anch'io con questo qua è quello nuovissimo che è con la cassa cuscino cassa cuscino tra l'altro spessore eccezionale il bracciale è fantastico sono tutte lavorazioni che ovviamente fanno aumentare leggermente il prezzo dell'orologio questo violetto che tra l'altro è stato usato anche poco in orologeria mi piace molto perché è un po glitterato quasi metallizzato è un violetto metallizzato bello 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 ovviamente esistono diverse colorazioni esiste il silver esiste il verde e questo qua è classico invece che il secco che già 37 mm c'è stata una sostituzione io ho ancora un modello vecchio che vi farei vedere proprio per paragonarlo con quello lì eccolo qua questo perché intera il vecchio 37 mm quella lì è la versione nuova c'è una piccola variazione ovviamente non solo nella forma della cassa ma soprattutto nell'attacco del bracciale l'altro aveva il terminale integrato e questo qui invece ha il bracciale con la barretta rigida è cambiato totalmente anche la cassa e se puoi vedere però ecco l'orologio l'orologio rimane sempre molto bello la differenza di prezzo devo dire vita è minima sì che è tollerabile incomincia esserci una selva di modelli anche in questi king seco qua sì perché è diventata all'interno del marchio seco una famiglia a tutti gli effetti come famiglia all'interno di un marchio deve essere sviluppata e deve avere tutta una serie di varianti non solo come forme e dimensioni ma soprattutto colorazioni e via dicendo dunque la qualità del king seco è sempre elevata ok viva il king seco e ultimo ma non da poco eccolo qui seco prospects cassa 62 mass con colorazione nuova di quadrante la vediamo un degradé che parte da un celestino molto chiaro a un un azzurro molto intenso l'orologio già lo conosciamo questa un'edizione limitata mille pezzi con addirittura la confezione speciale e il cinturino in abbinamento bianco tra l'altro si hanno usato questo bianco tra l'altro ne ha già venduto uno e il cliente diceva diceva stanno abbinamento bianco molto estivo però anche è vero che il bianco ora si presta molto fa molto anche neve perché il bianco che riprende poi il chiaro che c'è questo quadrante ci sono dei tocchi bianchi sì 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 secondo me poi il cinturino bianco spacca sì oddio magari si sporca facilmente non lo so è anche vero che anche gomma è sicché la gomma comunque la qualità di questa di questa tipologia di questa famiglia di orologi la conosciamo già ho fatto diverse anche recensioni di questi di questi modelli e le finiture sono eccellenti allora su quello su cui mi vorrei soffermare e far notare ovviamente una particolarità è questa colorazione è una colorazione degradé che tra l'altro in questo periodo viene usata da diversi brand e dovrà arrivare magari lo faremo vedere nella prossima recensione che sto aspettando il pacco da un momento all'altro i tisso con una stessa colorazione degradé tra l'altro un degradé in verticale siamo abituati a vederli in maniera orizzontale invece questo qui va in verticale allora giusto per introdurre che stai facendo spellicolarlo ma la mano c'è guanti temo non ti riesce oh spellicolato fa la sua più bella figura eccolo qua guardate qua che bello che è dai anche come dicevo le finiture qua sono di primo ordine ecco però sai cosa non marchia mai le corone è proprio una fissazione un pochino più di una bella s qua sopra ci starebbe bene però il compenso c'è il fondello chiuso con la famosa onda di tanagawa bello come dicevo giusto così per introdurre il prossimo orologio e rimanere in linea con quella colorazione lì di prodotto passerei a oris oris eccolo qua degradé anche questo classico oris aquis da 43,5 mm l'unica particolarità che vi posso dire che è un calibro 400 sicché ovviamente è l'upgrade col calibro di manifattura questo qui è nello specifico un grit barrier cioè edizione limitata a 2000 metri una parte del ricavato andrà a sovvenzionare un ente che praticamente si occupa della protezione delle barriere coralline il ripopolamento delle barriere coralline anche questo vediamo questa colorazione un pochino più forte perché qui partiamo invece da un acquamarina e poi abbiamo un degradé in verticale fino al blu blu profondo la ghiera in ceramico in acciaio non riesco capirlo è in acciaio in questo questo modello che bello così cavoli che bello poi da cosa si riconosce che è il calibro di manifattura da cinque giorni di riserva di carica che sono scritti sul quadrante poi dieci anni di garanzia e 10 anni di tempo al primo alla prima revisione cioè quindi non è nemmeno una di quelle case che vi tiene attaccate alla revisione ogni tre anni no dovete farla per forza ogni ogni 10 anni di 10 anni ti garantisco che l'orologio funziona e devi fare la prima revisione meglio di così non si può bello il fondello eh lavorato bene guarda qua stelle marine si è il nostro è la corriera è la barriera corallina è la corriera barallina si è quello lì la corriera ciao piero la corriera barallina ah bello allora le sacchi ce la conosciamo quante quante recensioni avrò fatto delle loro che sa qui 2000 insomma la salsa è sempre quella ma loro ci stupiscono con i quadranti con gli abbinamenti ghiera questa qua in acciaio è veramente bella 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 si allora poi sempre per rimanere famiglia oris siamo tornati dal giappone alla svizzera opera questo qui è un 65 38 mm guarda quella scritta il logo particolare si anche qui abbiamo lunetta in acciaio ghiera in acciaio il quadrante blu però come puoi vedere la scritta oris è stata modificata non è la sono stati sono stati cambiati caratteri e hanno preso questa scrittina molto infantile se vogliamo comi con sotto questa alcune delle caratteristiche dell'orologio colorate arcobaleno perché questo qui è una tiratura limitata a mille pezzi per un ente francese le defensere dell'infante praticamente è un'associazione che si occupa di di creare ovviamente un torneo dove partecipano anche i giocatori molto famosi e tanti bimbi che sono bimbi ovviamente disagiati che vengono a situazioni molto difficili il loro il loro obiettivo è tramite lo sport reintegrarli ovviamente fargli conoscere quelli che possono essere anche i loro miti calcistici e tramite lo sport ovviamente fargli fare un percorso per per levarli ovviamente dagli ambienti degradati dove vivono e questo qua praticamente invece ha il 6 litre sv200 sì questo è il classico 6 litre sv200 è una tiratura però al di là di chi possa interessare ovviamente la tiratura per cosa è stata fatta tra l'altro è un 65 inedito perché col blu non l'abbiamo mai visto 38 mm che è una buona portabilità è una tiratura che non fa mai male sicché comprate un bello orologio indistintamente con il blu non l'abbiamo mai visto nel senso il mio quello c'è di bronzo è blu è un blu notte veramente che sembra nero sì però è grande 40 mm questo questo è 38 poi è più chiaro questo è un blu azzurro molto molto carino alla fine tra le varie tirature tra i vari upgrade è una collezione anche quella da 38 che nasceva col cotton candy che si sta delineando è fatto mi sembra recentemente il verde col calibro di manifattura sicché insomma è una linea che si sta allargando poi sempre per rimanere in svizzera passerei a rado però sì questo è il classico capitan cook però ecco la particolarità è questa colorazione ecco questo è un degradé tradizionale però riprendiamo sempre quella base di colore che va dal celestino al blu scuro sicché sempre le solite tonalità degli eologi che abbiamo visto prima sviluppata in una maniera diversa da rado totalmente chiaro pure al centro che sembra quasi bianco qua ci sarebbe bene un cinturino in gomma bianco secondo me bello rado anche capitano allora guarda il cartellino forse c'è un corredo quello bianco kit kit ecco allora ci sono due cinturini aggiuntivi sicché ecco non mi ricordo il colore cinturini aggiuntivi però comunque sia ha un corredo in aggiunta allora vedi che l'ho azzeccata c'è anche il datario rosso strano va bene simpatico tra l'altro molto carina possiamo far vedere anche quella lancettina lì gialla la freccettina dei secondi il puntatore dei secondi non si vede tanto bene nella camera però è giallo e riprende il colore del rio perché la luce spara tanto qua il giallo non si vede ecco il giallo bello viva rado e giusto per rimanere sempre in tema diver un bel 200 metri inedito questo possiamo tranquillamente sbucciare questo ti piace tanto tra l'altro non so come mai non me lo so spiegare sono andato sul sito a cercarlo sul sito zodiac perché ha uno zodiac non ce l'hanno ancora caricato noi l'abbiamo già in negozio ne abbiamo diversi numeri così e questo ecco è veramente un bello logico faccio io questo qua perché è un 37 37 sì sì che non lo portiamo a casa eccolo qui o l'orogino che questo volete vedere a me big arma eccolo qua 37 millimetri piccole ragazzi nel senso so che a voi piacciono moltissimo piccoli come diceva cicciolina gli orologi però per esempio serve picco 37 perché con ghiere quadrante così un po però è veramente un bijou e quasi quasi lo porto a casa per farci una recensione completa perché qua stiamo parlando di 200 metri con un design inedito per zodiac con i numeri arabi pari e gli indici doppi dispari boh strano senza data bello ghiera in acciaio come mi piace ultimamente ci siamo qua qua ci siamo veramente guardate la corona cappellino di prete un po cicciota a cupola a cupola direi a cupola bello questo qua non dico altro perché non più lo porto a casa allora poi frederick costante nuovo modello ovviamente cassa classic la particolarità questo fase luna con datario sviluppato giro giro sull'esterno della fase luna e secondo decentrato loggio molto particolare calibro di manifattura o loggio che trovo molto molto bello anche in il rapporto con il suo prezzo di listino praticamente abbiamo i secondi centrali e fuori che la lancetta che euro 6 che sembrerebbe quella di piccoli secondi è in realtà il datario si facciamo la controprova per vedere felice la verità dici la verità ecco l'avete visto eccolo qua il datario lo leggete qua sul sul bordo del del quadrantino fase luna quindi c'è un paio di complicazioni aggiuntive in più e il calibro qual è quello di manifattura il calibro di manifattura il calibro di manifattura ovviamente il frederick costante da già due anni a questa parte ha intrapreso un percorso che è lo sviluppo ovviamente delle manifatture erano partiti con le ore del mondo e il perpetuale tra l'altro ricordiamo che sono i due orologi nel loro segmento che hanno il miglior prezzo di mercato poi ci sono stati degli upgrade dei tourbillon in varie con varie finiture di casse con vari materiali di casse tourbillon complicazioni varie tipo grandata riserve di carica per approdare fino a questo che è praticamente un una manifattura con funzioni molto semplici perché alla fine abbiamo un fase luna però possiamo già vedere il grado di rifinitura della meccanica la particolarità insomma prodotto veramente ben rifiuto veramente l'esempio dell'orologio classico con fase luna pulizia quadrante chiaro rotore in oro 18 carati sì sì io io ho fatto una scelta su questo orologio ho preso una cassa acciaio loro hanno anche casse in oro bianco casse in oro già in oro rosa scusate alcune tirature in platino sì che ecco vogliono entrare a tutti gli effetti a far parte del mondo delle manifatture ma soprattutto dell'alto di gamma poi qui ci siamo allora facciamo un salto in in mido ci sono diverse novità in primis questo che è un multi fort te lo faccio vedere anche in due colorazioni ma ne esiste quattro in totale è un orologio che deriva dal multi fort power wind che abbiamo già visto c'erano anche delle tirature limitate con bracciale diverso era già uscito qualche tempo fa la versione blu questi ovviamente prendono spunto dalla solita cassa con diciamo dei quadranti un pochino più classici poi resi un pochino particolari dalla colorazione infatti qui abbiamo verde un silver l'orologio che si porta molto bene vuole essere un every day perché comunque sia cassa non è un classico non è uno sportivo è quello l'orologio che si inserisce in quel la fascia intermedia di prodotto è strano che derivi dal power wind senza avere nessuna scritta su quadrante che richiami quel modello no perché power wind è diversa ma un bracciale diverso e diciamo è un derivato stessa cassa però con finiture e bracciale totalmente diverso sembra anche quasi sottile proprio la carrura è sottile poi vabbè lo spessore si va a dividere tra fondello e lunetta vetro però la carrura è veramente sottile simpatici e anche in questo caso quello grigio è leggibile eccolo qua quello verde poi per le persone che sanno osare un pochino di più beh l'ho fatto bene dai promossi i mido multiford sono promossi poi sempre per rimanere in casa mido è arrivato da qualche settimana è un decompression ne abbiamo già visti di tanti in diverse finiture questo diciamo è l'ultimo che è uscito cassa full pvd come bracciale maglia milano pvd tanta roba ovviamente è un doppio cinturino anche nella confezione è un limited edition sì che ecco differenza dei suoi predecessori dell'anno scorso che hanno due colorazioni questo limited questa sarà già la quarta versione che fanno e forse anche la quinta addirittura che hanno due versioni limited poi hanno fatto quelle aperte altre due versioni questo dovrebbe essere la quinta se non è quella più 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 originale quella diversa era il world timer sì che faceva anche l'ore del mondo eh sì però insomma il quadrante è sempre quello che li caratterizza maggiormente cioè così colorato così si è la scala di compressione sì che hanno fatto anche il fondo del disco datario è nero è un bel tocco di classe sì perché poi riprende tutto l'imbolucro bello fonderlo chiuso fonderlo chiuso ci piace sempre sempre tanto poi andiamo avanti andiamo nella famiglia mi scusa emilton 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 questo qua è piccolo ragazzi eccoci qua allora sono due diciamo espansioni della famiglia khaki questi qui sono i quarzi ora io ho preso due neri un grande un piccolo sono un 33 un 38 millimetri li ho presi identici per far vedere la differenza di misura però esistono poi anche in blu eh quadrante bianco cinturino in passante verde sì che ecco ci sono diverse soluzioni su entrambe le colorazioni allora diciamo che il prezzo sicuramente è proporzionato al fatto che sono dei quarzi e ciò che cose cose che li può rendere interessanti il fatto che un field watch un orologio da tutti i giorni da battaglia al quarzo è proprio veramente diciamo il suo sì ricordiamo che in questa finitura qui questo orologio per un lungo periodo era rimasto in catalogo solo a carica manuale perché al quarzo esisteva già poi era stato tolto dai catalogo che ora è stato reinserito con una collezione tra l'altro molto vasta perché ci sono ampie scelte sia sia in 33 mm che in 38 e interessante perché comunque sia con l'aumento dei prezzi per chi non è particolarmente attaccato alla meccanica può optare su un prodotto come questo che abbassa notevolmente il prezzo di io sono sempre sono sempre legato al carica manuale però se voi ragazzi qualcuno di voi è interessato piacciono l'orologio a quarzo anche l'emilton così la battaglia da prendere indossare senza mettere preoccuparsi a quarzo ma anche bene però ma carica manuale fa trick 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 quando giri un po meglio comunque poi poveri possiamo così allora dalla svizzera ci spostiamo in francia al confine al confine e abbiamo l'avevamo già detto nella scorsa puntata che c'era era già arrivato non avevamo fatto in tempo a farlo vedere proprio avevo promesso che l'avre che l'avremmo fatto eccolo qui è ovviamente il superman in bronzo e tra l'altro era un'uscita di svariati mesi fa perché loro avevamo fatto una prevendita sul sito anche noi ovviamente avevamo fatto la prevendita si parla di sei mesi fa doveva arrivare dopo quattro mesi per l'orologio ha avuto dei ritardi questo ovviamente risultato finale due colorazioni blu o nero il blu ovviamente è stato assegnato al suo proprietario e il nero è libero orologio molto particolare bello bello perché il bronzo è veramente rifinito ci hanno fatto anche il bisello il bisello lucido piace il bisello con calibro di manifattura con le finiture moderne lo vedete che è scuro diametro a cassa di questo orologio qua quant'è non si sa 39 39 lo yema superman in bronzo totalmente in bronzo mi piace anche il fatto che anche la ghiera sia tutta in bronzo cioè non c'è l'inserto ad andare a cambiare il colore tutta in bronzo dai simpatica questo qua dai va bene promosso basta no non sono novità anzi questo è un laco mi è arrivato l'altro giorno uno stud guard 37 mm lo facciamo vedere perché solitamente 37 si ordiniamo misurine più grandi questo è un 37 abbastanza interessante come orologio oddio perde un po' è uno stud guard pro l'aspetto dell'orologio flieger che deve essere grande no diventa qualcos'altro uno che si prende un orologio di questo tipo da 37 gli diventa un orologio non più flieger con l'aspetto del flieger ma un orologio da tutti i giorni ora a parte che è un quarzo però ecco si può paragonare perché poi dopo anche questo 37 38 sì che 37 38 si assomigliano molto potrebbe essere una buona alternativa magari a un emilton però è così come dici te perde un po l'effetto anche se basta guardare la lunetta che più sottile nel flieger mostra più quadrante guarda e quell'altro orologio cos'è e questo siccome a volte ci chiedono quali sono gli orologi più venduti quelli più richiesti continua a sviluppare grandi numeri il tartol basico di seiko questo qui è un orologio che avrà forse 30 anni di vita lo fanno da da tempo in memore finché la seiko non deciderà di togliere dal catalogo e per ora continua a riordinarlo e continua ad arrivare grazie anche al suo prezzo di listino 419 euro per un orologio indistruttivo continuo a essere uno dei seiko più venduti in assoluto vabbè questo è un classico sì sì invece quel tartol con la lente magnificatrice sul day date che modello è? allora per dire a verità tutti quelli che avevano le lenti magnificatrici che erano una fase di passaggio da questi modelli qui che avevano il vetro minerale invece sappiamo che quelli con la lente magnificatrice denominati anche king avevano già l'upgrade con lo zaffero però stanno sparendo stiamo ritornando ai modelli sempre migliori con il vetro in zaffero però senza lente magnificatrice sicché ecco come vedete la seiko sta modificando i suoi modelli anche in base alle vostre esigenze ai vostri commenti e a quello che ovviamente percepisce dal mercato va bene ma un paio di orologi usati non ce l'hai da farci vedere sì andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo 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 dove ce l'abbiamo gli orologi qui ecco ecco sono preparati tutti qui sono preparati allora sai che abbiamo fatto anche la live ah sì 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 abbiamo fatto una live di presentazione la prima volta che la facevamo ovviamente qualcosa è stato venduto sicché ti diamo te la diamo in aggiornamento l'usato. Io li vedo tutti grossi questi orologi qua, questo qua quant'è di diametro? Allora quello io un 43. Ah ecco non sono io. Sì no allora effettivamente tante tante permute vengono anche effettuate perché essendo in questo momento la tendenza del mercato a orologi leggermente più contenuti di dimensioni tanti stanno permutando orologi grandi per misure leggermente più piccole che ecco fa parte un pochino delle dinamiche del cambio. Questa è bella che cassa gigantesca. Allora questa qui è una cassa marine master 300 sicché è la cassa tipica col monoblocco in acciaio e tra l'altro questo qui era un 55esimo anniversario degli orologi diver della Seiko e ce l'ho ancora nuovo guarda Piero se lo vuoi far vedere ce l'ho ancora nuovo l'orologio da 7000 euro 7000 euro è forse l'orologio più costoso del mondo Seiko è una tiratura limitata a 1100 pezzi è veramente particolare ma il costo è dato più che altro dalla meccanica perché incassa la 8L che è la meccanica ovviamente più prestigiosa di Seiko. Mentre questo Seiko. Questo qui invece è una cassa Sumo. La ghiera del Seiko è sempre speciale. In versione Padi è un orologio nuovissimo che tra l'altro per le finiture azzurre vedi fa parte dell'ultima generazione di questi prodotti. Infatti è un orologio che è stato venduto ad agosto poi il cliente si è reso conto che anche questo era un po' grandino poi lui avrebbe preferito il bracciale in acciaio sicché l'ha permutato Sì 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 l'orologio è praticamente nuovo. È di agosto? È di agosto. È di agosto. L'orologio eccezionale lo prendete anche a una cifra molto interessante. Poi abbiamo tutta una serie di longine già fatto vedere un conquest questo qui è un dolce vita sicché l'orologio più classico cinturinato in coccodrillo questo è un orologio più elegante. Tra l'altro negli ultimi tempi gli orologi rettangolari stanno un po' scemando dai cataloghi sicché a cosa ci puoi vedere come sta. Piace anche a me questo. Non lo prenderei perché non mi sta bene. Perché non sei abbastanza chic. Non sono proprio chic per niente. Io invece? Tu sei molto chiccoso. Soprattutto dopo la crociera che hai fatto senza di me. Bello bello bello. Non l'orologio ma tu. Mi piace tanto. Sto bene. Bello sì. Tra l'altro sono diverse misure. Questa diciamo è la penultima tra i più grandi. Ce n'è anche una ancora un pochino più dimensionata però secondo me la penultima. Sì ce n'è una ancora più grande però secondo me questa è la misura perfetta. C'è la cattola conquista. Eh perché? Perché? L'ogine. Poi idro conquest sempre grande da 43 mm. Questa è l'ultima versione con la lunetta in ceramica. non ti starà mai perché il cliente ha... aveva un polso molto molto piccolo. Infatti sto aspettando come ho detto nella live gli spezzoni da poterci mettere. Vi arriverà con gli spezzoni in tonzi che voi vi regolerete a misura sul vostro polso. Io purtroppo c'è tutto grosso. No sì. E poi c'è un bulovino. Poi c'è un bulovino. Eccolo qui. È il Devil Diver. Anche questo qua. No non gli ho ancora rimesso le maglie ma è tutto corredato. Anche questo cliente ha un polso molto piccolo. Queste sono tutte... Se vuoi far vedere le sue magliette ce n'è da benedire, da regalare. Tutti i clienti in gelo ma sono piccoli eh. Questo qua è 44. Sì. Diametro 44. Però ecco questo qui è il bulova che mi piace di più in assoluto eh. È vero. Però ecco come dicevo è un 44 ma con lag to lag molto molto contenuto. Di tu le sembra quasi un quadrato perché è un 44 per 46. Sì che è quasi un quadrato come dimensione. Simpatico dai. Sì. E poi sempre l'orologio molto elegante. Boom, mo si. Boom, mo si è classima. Boom, mo si è classima. Puoi aprire anche l'altra parte. Non mi direi che è piccolo. Questo ti sta. Realmente la provetta la possiamo fare. Eccolo qui. 42 mm. L'orologio molto molto bello. E come dicevo è un po' un derivato come come forma dell'IVC portoghese. C'è un po' di numeri romani qua e là eh. Sì hanno un po' l'hanno buttati lì i numeri romani. Come fosse un Shanghai. Sì. È un reverse panda però vedete che i contatori sono stati sviluppati in verticale. Base nera, contatore silver. Beh lo ti sta bene. A me mi stanno tutti bene gli orologi. Sì? Sì. Però se sapessi anche come si leva sarei contento. Dice se no avrei recensito telefonini. No le bambole. Una volta le recensivo le bambole gonfiabili ho fatto tutto di questo successo. Sì eh. Quando le scoppiavi o le... Le scoppiavo. Va bene dai. Non mi rubi più gli orologi ultimamente eh Piero. No. Va bene dai. E poi ho visto anche un po' di usatini. Allora per me tra tutti questi qua vince il... Longin dolce vita. Anche bomber sì è bello però eh. Prefisco questo longinetto qua rettangolare dai. Chiama il secco anche quel secco lì che di nuovo viene il secco. Vieni Piero dammi la mia... No. Non tolano. Allora ragazzi eccoci qua tutti inquadrati come simpaticamente sempre noi siamo. Vabbè dai che metto qua a sinistra. Ah tu ho beccato il video che è uscito ieri. Hai detto love ma hai usato rock. Queste sono spiate che non vanno bene eh. Sì. Allora ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua. Spero vi sia piaciuto il video. L'amico Giacomo e il buon Piero. Ma va bene. E vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono. Quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. No. E vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sia piaciuto il video.